Micaela Guenzi responsabile Lombardia Film Commission. Sono qua perché siamo come fondazione sponsor di questo evento, abbiamo lanciato un piccolo bando di progetti speciali e quando R3 ci ha presentato il suo progetto siamo rimasti entusiasti e per cui abbiamo deciso sì ci siamo. Credo che sia, ripeto, un passo e andiamo avanti da qua. Tutto ciò che noi mettiamo a disposizione è per tutti ma ancor più per il cinema indipendente che è una caratteristica del nostro territorio riteniamo che sia anche più divertente se vogliamo e che sia la nostro supporto possa diventare veramente più fattivo per quelle produzioni che hanno necessità e non hanno i budget delle major ecco se vogliamo. Milano ha assolutamente le potenzialità a noi piace pensarlo se no non saremmo qui ma non lo diciamo solo noi c'è una tendenza. Adesso esagero ma mi piace, è bello. Tante produzioni stanno guardando alla nostra regione e a Milano ultimamente forse ancor più che a Roma. L'audiovisivo è interessato al nostro territorio e a Milano.